Sono di Colico e sono stata assegnata in biblioteca Colico, il progetto è culturalmente in rete. Io sono lavorata in conservazione dei beni culturali, quindi mi piace tantissimo lavorare sia con le persone e consigliarle per quanto riguarda i libri da leggere, perché comunque secondo me la passione proprio per la lettura è molto importante. E' per questo che ho scelto questo progetto piuttosto che un altro che c'è nel nostro comune. Grazie. Grazie.